L'incontro di oggi è un incontro di successo dove il mondo dell'ospitalità ha parlato al mondo delle finiture, però è stato anche un incontro propedeutico a un grande evento che si terrà a Madexpo. Sì, abbiamo avuto delle notizie straordinariamente positive e oggi abbiamo scoperto che il settore dell'industria alberghiera continua a svilupparsi, a costruire nuovi alberghi e a ristrutturare quelli esistenti, scegliendo di avere come fornitori imprese italiane. Quindi, ottime notizie, dobbiamo andare a cogliere questa opportunità. All'interno di Madexpo 2015, cioè dal 18 al 21 marzo 2015, organizzeremo come Made degli incontri B2B riservati agli espositori di Made che potranno incontrare tutti i grandi buyers di queste grandi catene alberghiere, ma anche dei piccoli albergatori. Ci sarà opportunità per tutti di poter andare a cogliere queste straordinarie opportunità di lavoro, di mercato, dentro Madexpo del prossimo anno. Verrà poi riservato uno spazio prioritario anche a quelle aziende di Federlinio Arredo, in particolare del settore arredamento, che potranno anche loro offrire i propri prodotti alle aziende alberghiere. Grazie.